L'apertura più importante di questa edizione sarà sicuramente l'apertura di Palazzo Perticari a Pesaro che riapre le porte alla città dopo i lunghi anni di ristrutturazione. Un luogo del quale vedremo appunto il restauro architettonico ma che ha un progetto importante che è quello di contenere in futuro la collezione d'arte del proprietario Franco Signoretti ma anche un progetto legato alla realizzazione di una biblioteca già in realtà in estere che verrà poi qui collizionata, una biblioteca specialistica d'arte molto importante che porterà sicuramente Pesaro alla ribalta a livello internazionale per lo studio e la ricerca specialistica in questo settore artistico e storico. Passiamo poi ad Urbino dove apriamo ben quattro siti in collaborazione con l'Università di Urbino e apriremo l'Aula Magna Rettorale a Palazzo Bonaventura dove è contenuta una raffinata collezione dei dipinti di Mario Logli. Poi apriremo il Museo dei Gessi che contiene un nucleo importante di calchi dell'antica statuaria greca e romana e partiremo dall'osservazione della riproduzione di importanti opere per ricollegarci all'influenza che la cultura antica ha avuto sulla nostra cultura attuale anche sull'iconografia contemporanea. Andremo poi a visitare il Gabinetto di Fisica, il Museo della Scienza e della Tecnica di Urbino che contiene una collezione molto importante di strumenti scientifici che fa di questa collezione una delle più importanti in Italia e ci parla anche dell'importanza che ha avuto nel Settecento la città di Urbino a livello scientifico con Alessandro Serpieri che ne fu conduttore per un periodo. Visiteremo anche l'osservatorio meteorologico da lui che porta il suo nome, da lui fondato uno dei più antichi delle Marche che comunque per la qualità e l'importanza dei suoi rilevamenti è stato riconosciuto tra i cinque osservatori più importanti nel mondo per lo studio dei cambiamenti climatici in atto. Visiteremo anche la collezione mineralogica e naturalistica nel polo Volponi, polo scientifico didattico. Poi apriremo la piave di Santo Stefano di Gaifa nella frazione di Canavaccio Ad Urbino, dimenticavo, apriremo anche la chiesa e il convento di Santo Stefano ricco di opere d'arte tenuto dai frati francescani che dal XIII secolo dimorano in questi luoghi ricco di opere d'arte e di testimonianze del nostro passato. Poi possiamo parlare di Fano dove apriremo la borgata di Metaurilia, una borgata costruita nel ventennio, 115 casette con il loro orto. Apriremo poi a Pergola tre chiese nella parte alta del centro storico ma che non è stata toccata dalla recente alluvione, quindi la chiesa di San Francesco, di San Vitale e di Sant'Orsola normalmente chiuse ma sicuramente vogliamo richiamare anche la nostra attenzione sulla chiesa di Santa Maria delle Tinte che è stata molto colpita invece dai recenti fatti e che vogliamo un po' prendere come simbolo di quello che è accaduto e quindi in qualche modo manifestare la nostra vicinanza a questo luogo e ai cittadini che hanno anche visto distrutte le loro case nella speranza che questa attenzione su questo luogo possa restituire loro al più presto quello che è stato danneggiato. Poi andremo anche nel paesino di Serra Sant'Abbondio, un luogo anch'esso colpito duramente da questa alluvione dove visiteremo la cripta di San Biagio e la piccola chiesina di Santa Maria della Canale al cui interno si trovano degli affreschi del maestro del palazzolo molto variopinti, una vera sorpresa entrando. Per finire apriremo anche l'Amoli, l'abbazia di San Michele Arcangelo un luogo del cuore per eccellenza dove si può visitare l'abbazia di recente restaurata e anche fare però delle escursioni alla scoperta dei sentieri che i monaci percorrevano nell'antichità e infine a Montefabri dove potremo non solo visitare il borgo ma anche i suoi dintorni con un percorso che ci condurrà sulla strada della Banda Grossi.